Mi trovo nella coda dell'ALN663 1192 con il computer del personale, vi sto facendo una disinstallazione e ristallazione della chiavetta che non funziona bene. Bellissimo, chi si aspettava una coda del genere. Questo è il posto del capo 3. E' il posto del capo 3 del secondo genere. E' il posto del capo 3 del secondo genere. E' il posto del capo 3. Si sente male. Ciao.